E' il primo cuci ora? Sì 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 Allora Sì un po' prima roba di figlio, un figlio figliote eh va bene mamma come il passagolato? no no che figlio è al muro ma sono dei parolati sono dei fratelli che vengono evo molto vedo vedo e 2 Ciasco da due o tre Riscotto E' da grossi, l'ho visto buono Dossami, ciao Tony Andati, grazie Questo si è? Questo è oro rosso E' da grossi Detti Dette E' da grossi Quête Occhie Templeri E ci E' necessitato Questa è laoritaria sugirante иваем Tutti Contagini Per non so finire non so finire non so finire ecco io tendo io per il nostro pomodoro ma posso dare io per il nostro pomodoro si ok, buono, si a toccato non ci sguardo, non tiravo eh questo è il nostro sapone non so finire no, no questo è il saldo saldo vuol dire che c'è tutto c'è tutto mi spiego un altro punto si fa in te si fa in te pausa stop se vedete ma lei entra qui qua italiani non è nera no, no quindi metto qui questo al pomodoro basta se vuoi cambiarle allora si ponga su qua ecola devo che si carica le barche ok ok